Buongiorno dalla redazione web della Città di Torino, ben ritrovati a questo primo appuntamento della giornata con le notizie dal web della Città. Iniziamo oggi con gli appuntamenti istituzionali. Giovedì 23 luglio alle 9 iniziata a Palazzo Civico in Sala dell'Orologio la riunione della Sesta Commissione Consigliare presiduta da Vincenzo Cugusi, in seduta congiunta con la prima preseduta da Giochino Contro, con all'ordine del giorno la mozione Società partecipate. Al secondo punto l'interpellanza ulteriore posizionamento di Lampioni per l'eliminazione pubblica al centro commerciale di Via Ponchielli e al terzo punto dell'ordine del giorno l'interpellanza impegno a chiudere la discarica di basse disture entro il 31 dicembre 2009. Alle 10.30, sempre a Palazzo Civico in Sala delle Congregazioni, il vice sindaco D'Alessandria riceve una delegazione ucraina composta da rappresentanti dell'azienda Misar, si occupa di trasporti, mobilità e automazione. Alle 11.00 a Palazzo Civico in Sala delle Colonne l'assessore Alfieri partecipa alla conferenza stampa di Muoviti Positivo. Alle 11.00, sempre nel Palazzo Comunale, questa volta in Sala Carpanini, la riunione della quarta commissione consigliare presiduta da mia Teresa Silvestrini con all'ordine del giorno l'audizione dell'assessore Borgione sull'avanzamento del piano regolatore sociale. Alle 14.00 in Sala Alorogio la riunione della terza commissione che non ha presidente perché attualmente l'attuale presidente, l'ex presidente Giuseppe Sviglio è passato come sapete a essere componente della giunta comunale, è prevista questa riunione con la commissione diritti pari opportunità presiduta da Centillo con all'ordine del giorno la formazione dell'assistente familiare in particolare per l'inserimento lavorativo nel settore della ristorazione di assistenti familiari immigrate. Infine alle 16.00 a Palazzo Civico, sopra luogo della seconda commissione consigliare presiduta da Piera Levin Montalcini presso l'area del parcheggio pertinenziale di via Bosto, quindi la seduta inizia a Palazzo Civico ma si trasferisce a via Bosto. Questi erano gli appuntamenti istituzionali della giornata di oggi. Il tempo. Bene, come vedete dalla sovrimpressione siamo a 22,5 gradi registrati all'eroe 8 dall'ARPA a Piemonte. Per stamattina cielo generalmente è sereno o poco nuvoloso con possibile aumento della nuvoluzione del pomeriggio da temperature bassine intorno ai 28-30 gradi. Andiamo a leggere anche il bollettino delle ondate di calore che prevede per oggi l'assenza di disagio bioclimatico estivo come viene burocraticamente chiamato. Un indice di stress a 3,9 su una scala di 10. Lo stesso per domani sarà l'indice intorno a 3,4. Il 24 di luglio è previsto un tipo di caldo affoso con un indice di calore 7,2. Quindi domani, scusate, il 24 l'indice di calore è a 7,2 con un primo livello di attenzione rispetto ai quattro previsti. Bene, andiamo a vedere le notizie del web della città. Anzi, no, ecco, mi suggerisce giustamente Mario che siamo nel momento di Torino Click, l'edizione della nostra agenzia quotidiana che è stata pubblicata ieri sera alle 18.30, parla dell'ex Alenia, se ne riparla a settembre, il futuro del palazzo del lavoro come centro commerciale, la festa del Perù in piazza Vittorio e l'interessante iniziativa a tavola con i dottori della buona cucina, un'iniziativa che si snoda in molte regioni italiane. Questa associazione creata da studenti laureati in scienze gastronomiche presso l'Università di Pollenzo, la associazione si chiama I Cavolfiori a merenda, prevede un calendario di eventi di gastronomia itinerante presso alcune interessanti località della nostra penisola. Bene, vediamo ora le notizie dal web della città, vi segnalo la ricerca da parte della redazione web di progettisti web, è stato pubblicato un bando per la ricerca di progettisti sviluppatori web, un incarico dalla durata di 24 mesi e richiesta alla laurea magistrale in scienza della comunicazione, tutti particolari sul sito del Comune di Torino dedicato a questo tipo di ricerche, quindi www.comune.it bar concorsi, come vedete, tempo utile per la presentazione delle domande entro il 11 di agosto. Webcam, Palazzo Civico con un po' di sole, eccolo, siamo ora al giro degli incroci, rotonda Maroncelli, traffico, queste sono telecamere del Consorzio 5T, piazzale Caio Mario mi sembra moderatamente deserto, Corso Siracusa via Tirreno, c'è un po' di traffico, vedete, questo è l'incrocio Sommeillet-Turati, vedete i lavori, la deviazione sul controviale di corso Turati per i lavori di ripristino di binari e con questo abbiamo terminato la carrellata con le nostre webcam, ringraziare Mario Parena che mi ha aiutato nel correggermi negli errori e soprattutto dalla messa in onda di questa edizione, lo ringrazio e vi do appuntamento alle 16.15.